Anche quest'anno l'Università della Calabria ha garantito la borsa di studio a tutti gli studenti e risultati idonei nelle graduatorie del diritto allo studio. Sono quasi mille in più rispetto al 2022-2023, esattamente 8.000 gli iscritti che ricevono la borsa di studio, 400 il premio di laurea e 100 il contributo per la mobilità internazionale per un totale di 43 milioni di euro. La copertura del 100% degli idonei è stata raggiunta tramite l'impiego delle risorse aggiuntive del PNRR e dei finanziamenti della Regione Calabria che integrano le risorse ordinarie del Fondo di Finanziamento Ministeriale, della Tassa per il diritto allo studio e delle risorse messe a disposizione dall'Ateneo, circa 4 milioni e mezzo di euro. I nuovi beneficiari di borsa di studio possono prendere visione del proprio status e dello scorrimento delle graduatorie accedendo al portale dei servizi online del centro residenziale oppure tramite l'app Unical Life. I prossimi passi ora prevedono la firma della convenzione con la Regione Calabria in seguito alla quale sarà possibile erogare le borse di studio.